Quindi vi invitiamo a essere presenti questa sera, io mi limiterei qui perché questo è uno di quei momenti che forse è meglio riflettere un attimo, rimanere in intimità così con i parenti e con il nostro amico Giovanni Moretti. Do la parola al figlio. Buonasera a tutti voi, saluto la signora Monique, i figli di Giovanni Moretti, ovviamente per me è un dovere, ma credo che sia più un onore essere presente a questa commemorazione che io vorrei chiamare ricordo, che io vorrei chiamare comunque presente in tutti noi. L'amministrazione comunale aderisce a questo evento perché comunque Giovanni Moretti come abbiamo già letto, come molti di noi questa sera troveranno anche il tempo e anche i documenti per arricchire il suo lavoro di storico, di ricercatore, di uomo di cultura, è stato anche un amministratore, io quindi questo lo voglio ricordare proprio perché Giovanni Moretti è anche stato assessore all'istruzione di cultura con tante iniziative che sarete in grado di ricordare, io voglio sottolineare quella che diciamo di fatto c'è anche rimasta, l'abbiamo ereditata, parlo della scuola del comune di Magione, allora scuola a tempo pieno, oggi ha cambiato anche qualche denominazione, però credo che sia stato comunque un uomo che ha guardato lontano e sicuramente è arrivato lontano e noi abbiamo di fatto poi fruito delle sue longemeranze. Lo voglio ricordare anche...